Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione del territorio. Nel primo pomeriggio di oggi un incendio è divampato in un'azienda di Verona, la Ecologica 3D, che tratta lo smaltimento di rifiuti speciali a Legnago. L'area è interessata dalle fiamme pari a mille metri quadrati. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco provenienti da Legnago e da Verona. In totale sono stati impiegati per spegnere l'incendio di grandi dimensioni. 12 operatori arrivati con un'autopompa a serbatoio, due autobotti, un carro schiuma e un carro aria. I danni sono ancora da quantificare, così come non si conoscono le origini del rogo. Ricorderete la brutale rapina avvenuta a marzo a Mestre, quando una donna di 85 anni era stata selvaggiamente picchiata in casa. Bene, grazie al lavoro degli investigatori, dei carabinieri, i due autori sono stati arrestati. I carabinieri del comando provinciale di Venezia hanno arrestato gli autori della brutale rapina compiuta a marzo ai danni di una donna di 85 anni. La signora era stata aggredita dentro casa a Mestre, era stata picchiata selvaggiamente, tanto che aveva riportato lesioni e fratture che ne avevano richiesto il ricovero in rianimazione. Le indagini approfondite dei carabinieri hanno permesso di arrivare a due uomini considerati gli autori di quelle atrocità. Si tratta di due volti noti alle forze dell'ordine, Emanuele Luraschi, 44 anni, veneziano, e Vincenzo Casati, 52 anni, tarantino. Uno dei due era un vicino di casa della vittima della rapina. Gli investigatori hanno comparato le impronte digitali rilevate sul luogo con quelle dei due italiani, hanno visionato le celle telefoniche agganciate dai cellulari e hanno trovato un anello dell'85enne consegnato ad un comprooro da parte di uno degli arrestati. Quella rapina aveva sconvolto il Veneto per la brutalità usata dai due uomini e il figlio della signora aveva diffuso anche la foto della mamma per far comprendere la gravità di quanto era accaduto. Le condizioni di salute dell'ex presidente del consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati, non consentono la sua audizione in contraddittorio con la difesa nell'inchiesta sul Mose. Perciò i verbali, resi dopo l'arresto per turbativa d'asta a luglio 2013, avranno valore di prova nel fascicolo. Lo ha deciso il GIP Alberto Scaramuzza, chiudendo così l'incidente probatorio che era stato chiesto, come riportano i quotidiani locali, dai legali di due ex amministratori pubblici indagati, l'ex europarlamentare Elia Sartori e l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Mazzacurati ha compiuto 83 anni, dallo scorso ottobre si trova in California, ma le sue condizioni di salute, secondo il legale e documenti medici prodotti, non gli consentono di ricordare, di conseguenza di deporre a causa delle sue peggiorate condizioni. Ci spostiamo a Jesolo, dove è stata scoperta una catena di minimarket che azzerava gli scontrini fiscali emessi. Aspettavano che i clienti, per la maggior parte stranieri, uscissero dai negozi e quindi annullavano l'operazione di incasso. Un meccanismo che ha permesso, secondo le fiamme gialle, di presentare al fisco una realtà distorta. A Jesolo, gli uomini della locale tenenza della Guardia di Finanza hanno scoperto una catena di minimarket che frodava il fisco attraverso un sistema costante che prevedeva l'annullamento di un gran numero di scontrini fiscali emessi nel corso della giornata. Il meccanismo era semplice. Gli addetti alle casse, cioè i soci dell'impresa ispezionata, formavano la documentazione fiscale che consegnavano al cliente, indicando tutti i prodotti acquistati e relativi importi, incassando il corrispettivo. Successivamente, il documento fiscale, privo delle righe di chiusura del relativo totale effettivamente pagato dal cliente, veniva completamente stornato, facendo ricorso alla procedura di annullamento e riportando un totale pari a zero. L'operazione avveniva una volta che il cliente usciva dal negozio. La realtà presentata al fisco, dunque, era distorta rispetto alla realtà. L'operazione è stata disposta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia. L'attività ispettiva ha consentito di rilevare in capo alla società oltre 870 mila euro di corrispettivi imponibili non annotati e non dichiarati, 95 mila euro di maggiore IVA dovuta e 30 mila euro di IRAP evasa. L'attività amministrativa nei confronti dei soci, inoltre, ha permesso di constatare oltre 770 mila euro di redditi non dichiarati, cui corrisponde un'imposta evasa di circa 235 mila euro. Nelle giornate di maggiore affluenza estiva si è assistito anche all'annullamento consecutivo di oltre 60 scontrini fiscali. A Marghera, ieri agenti della Polizia del GAM, il gruppo anticrimine di Mestre Marghera, hanno arrestato due tunisini per spaccio di droga. I due sono stati sorpresi durante un blitz in un appartamento della zona dove più volte erano stati segnalati strani movimenti. Gli agenti hanno recuperato quasi 17 grammi di sostanza, cocaina, già suddivisa per la vendita dei due immigrati nordafricani. Uno si trova sul territorio irregolare e l'altro con precedenti per le stesse imputazioni. E parliamo adesso di etichette irregolari. Sequestro al centro ingrosso Cina di Padova. Guardate. Blitz della Polizia Locale, della squadra Attività Economiche, al centro ingrosso Cina di Padova. Sotto osservazione due padiglioni, il C e quello contrassegnato dalla lettera P. Il primo ha risultato in regola, mentre il secondo ha evidenziato una serie di irregolarità. Il servizio di verifica è stato realizzato in collaborazione con il personale della Camera di Commercio. Sono state trovate etichette irregolari e mancanza del marchio CE. Sequestrati circa 500 paia di occhiali da sole. Il prefetto di Treviso è stato allontanato da un ristorante dove era in corso una cena ufficiale perché aveva con sé il suo cagnolino. Una vicenda davvero assurda. Il prefetto Maria Augusta Marrosu ha raccontato che l'animale di piccola taglia era dentro una borsetta e quando gli ospiti si sono seduti a tavola l'ha fatto sedere tra lei e il marito. È stato a quel punto che il ristoratore l'ha raggiunta dicendole questo è un ristorante non un canile. A nulla è valso a spiegare che fuori non c'erano vetrofanie che indicavano il divieto di ingresso e che un cagnolino che non disturba non può essere mandato via. Il prefetto si è a quel punto alzato e ha lasciato la cena. Secondo i dati diffusi dal Viminale, purtroppo lo sentiamo spesso anche nelle notizie di Cronaca, le truffe agli anziani sono aumentate. Per questo motivo è stata avviata una campagna di prevenzione e informazione. Sentiamo di cosa si tratta e anche sentiamo alcune regole per proteggersi. In Italia le truffe agli anziani e alle persone fragili sono in aumento. Secondo i dati diffusi dal Viminale, tra il 2012 e il 2014 il trend è aumentato con un più 8,6% nel 2013 e più 3,5% nel 2014. Per proteggere le possibili vittime è fondamentale la prevenzione e la parola d'ordine per gli anziani deve essere autotutela. È in partenza in Italia la seconda edizione di una campagna informativa realizzata da Confartigianato e Ministero dell'Interno. Si svolgerà un tour per il paese dove verranno dispensati consigli e alcune regole da seguire. Ecco le principali. Non fare entrare persone estranee in casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi distrarre mentre si maneggia il denaro e nel caso di dubbio chiamare le forze dell'ordine. Le vittime di truffa sono soprattutto persone dopo i 75 anni, persone sole che hanno bisogno di parlare e per questo sono facili da avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi, spiega il direttore del servizio analisi criminale della Polizia Maria Teresa Sgaraglia nella conferenza stampa per presentare l'iniziativa, ma spiega anche che le forze dell'ordine sono sempre pronte. Giampaolo Palazzi, presidente dei pensionati di Confartigianato, ha chiesto pene più severe nei confronti di chi compie reati contro gli anziani, che sono i soggetti più deboli. Per il Vice Ministro dell'Interno il tema deve essere affrontato con equilibrio, ma l'ipotesi di un aggravante per le caratteristiche delle vittime potrebbe costituire un percorso da scrutare. Adesso andiamo in provincia di Vicenza, a Cartigliano, e parliamo del progetto scuole, l'educazione ambientale di Etra, una straordinaria partecipazione al concorso La Natura insegna, una delle iniziative del progetto scuole promosso da Etra. Questa mattina a Cartigliano si è svolta una grande festa e si è svolta anche la premiazione delle classi vincitrici a questo concorso. Guardate. Ci troviamo a Cartigliano, in provincia di Vicenza, per la festa finale del progetto scuola e la premiazione del concorso La Natura insegna, indetto da Etra. Cosa ha previsto il progetto per l'edizione 2014-2015? Sì, il progetto ha previsto attività didattiche nelle scuole, sui temi di acqua, rifiuti ed energia, che sono le attività che interessano soprattutto quello che fa Etra. In particolare sono stati coinvolti quest'anno ben 21.000 ragazzi, quindi è un numero di tutto rispetto. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto veramente un salto. Qual è lo scopo di questo progetto? Lo scopo è proprio quello di aiutare i ragazzi a rendersi consapevoli del fatto che sono i primi collaboratori di noi che facciamo servizio, che eroghiamo i servizi per il territorio. Ecco, lei stamattina ha parlato un po' con i ragazzi, io ho sentito un grande entusiasmo, cosa le hanno detto? I ragazzi sono stati molto contenti, soprattutto perché c'è una mostra allestita con i loro lavori, quindi hanno visto che tutto l'impegno che ci hanno messo nel corso dell'anno effettivamente ha prodotto i frutti. Di che scuola stai? Curtarolo. Come si chiama? Gabriele. Cosa avete presentato oggi? I progetti vincitori della nostra classe. E cosa avete presentato come classe? Un progetto che parla di? Dell'energia. Ci troviamo con l'insegnante che ha seguito i ragazzi che hanno creato questo progetto, come è andato? Bene, bene. Il problema più grande è quello di insegnargli al lavoro di gruppo, praticamente, quindi alla cooperazione, saper gestire le varie difficoltà, ma poi vedendo i risultati si può rimanere molto soddisfatti, soprattutto quando c'è la soddisfazione da parte dei ragazzi. Infatti c'era una grande soddisfazione da parte loro. Direi che è la cosa primaria, al di là del fatto di partecipare al concorso, o meno che avviene dopo. Questi sono lavori che poi verranno utilizzati anche in fase di esame di terza media. Ecco, qui c'è qualcosa che funziona realmente, ci spiega un pochino com'è? C'è un'applicazione praticamente della teoria, perché noi spieghiamo l'elettricità, e loro praticamente hanno ricostruito un circuito elettrico, dietro c'è ovviamente una batteria, che gli permette di simulare quella che sarebbe la trasformazione dell'energia. Questa è una centrale nucleare, quindi il vapore, che fa funzionare la turbina, e poi produce energia elettrica, insomma. Questo è il concetto essenziale. Ecco, impegnativo per dei ragazzini che hanno quanti anni? Beh, 13 anni, essenzialmente, insomma. Però se si va a vedere anche gli altri lavori, secondo me vede che c'è stata proprio una ricerca, ovviamente c'è stato uno studio precedente, e dopodiché una ricerca. E adesso sentiamo anche un po' di ragazzi. Qui abbiamo una centrale idroelettrica, che è stata fatta dalla scuola secondaria, prima di Pozzoleone. Come ti chiami? Iosef. Allora, com'è stato questo lavoro? È un po' lungo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto il plastico di una centrale idroelettrica. Spiega il funzionamento. Sì, sì. Allora, qua bisogna mettere dell'acqua come se fosse una diga vera. Qua c'è una pompa normale per acquari, si accende, la spruzza dentro a questo canale, fa girare questa ruota, che dovrebbe innescare tutto il discorso dell'elettricità. Com'è nato questo progetto? Chi è stato l'ideatore? Beh, un po' tutti alla fine, però eravamo decisi di trovare i progetti e abbiamo deciso di fare quello dell'Eltra. E quanto ci avete messo? Circa un mesetto, circa. Educativo, ma anche divertente? Sì, sì. Cosa vuoi dire ai tuoi compagni? Boh, che siamo stati tutti bravi, che siamo arrivati in questo concorso, abbiamo anche vinto. Allora, stai facendo un giretto per vedere i lavori che hanno fatto gli studenti. Cosa ne pensi? Bene. Qual è quello che ti è piaciuto di più? Il mio. Che è? Cosa? L'ombrellone. Cosa avete preparato voi come lavorette? L'ombrello. L'ombrello. Abbiamo fatto un video. Anche un video? Sì. Che fa vedere cosa? Che l'acqua non si spreca. Perché è un bene importante, giusto? Per tutti. E potrebbe anche finire. È stato divertente fare questo lavoro? Sì. Moltissimo. Molto. Una grande giornata, siete soddisfatti? Sì. Come vi chiamate? Camilla. Camilla. Io Serena. Sì. Silvia. Sharon. Beh, siete tantissimi. Allora, cosa avete fatto oggi? Voi avete anche ballato? Sì. Vi eravate emozionate prima di esibirlo? Sì. Molto. Molto. Però è andata bene. Sì. Voi avete anche vinto il premio? Sì. Siamo arrivati i primi. Sì. Siamo arrivati i primi. Con un progetto cosa avete presentato? Il tema era l'acqua, per risparmiare l'acqua. Come si fa per risparmiare l'acqua? Dàci alcuni consigli. Di chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, oppure accendere la lavastoviglia e la lavatrice soltanto quando è piena. Bisogna fare la doccia anziché il bagno, se no si spreca molta acqua. E nella terra l'acqua potabile per gli umani è poca, quindi mai sprecarla. E quando sei in vasca e ti insaponi di chiudere il rubinetto. Che l'acqua è una fonte indispensabile per l'uomo e non deve essere sprecata. Cosa volete dire alla vostra insegnante? Grazie, che ci ha fatto vincere. E che ci ha insegnato tutte queste cose sull'acqua. E grazie a Eleonora che ci ha fatto fare il balletto e che ci ha portato a questo risultato. E ci ha fatto vincere. Abbiamo visto una grande giornata di premiazioni, abbiamo visto tantissimi elaborati e un grande entusiasmo da parte degli studenti. Naturalmente l'appuntamento è per il prossimo anno. Sì, certo, per il prossimo anno con le scuole che parteciperanno al concorso La Natura Insegna, per cui sarà fatta la stessa festa. Ma anche con le attività del weekendone che è stata fatta questo weekend e che riproporremo l'anno prossimo per tutte le famiglie. E adesso continuiamo con altre notizie. Il Made in Italy da oggi ha uno strumento di promozione in più, il segno unico distintivo dell'agroalimentare presentato a Expo dal Ministero delle Politiche Agricole in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il segno servirà a promuovere i prodotti italiani dell'agroalimentare sotto un'unica bandiera, a contrastare i prodotti contraffatti. Il marchio fa parte di una strategia più ampia del governo ed è inserito nel piano straordinario per il Made in Italy, per il settore agroalimentare. Sono stati stanziati 72 milioni di euro. La pubblica amministrazione, nonostante i buoni propositi, paga i fornitori ancora con lunghissimi ritardi e risulta la peggior pagatrice di tutti i paesi europei. 144 di media, ma possono anche essere di più i giorni che servono per i pagamenti alle aziende private. Pensate che la media europea invece si aggira attorno ai 34 giorni. Sentiamo un po' di numeri. Secondo le stime presentate dalla Banca d'Italia nella relazione annuale 2014, al 31 dicembre scorso il debito commerciale della nostra pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori privati, ammonterebbe a 70 miliardi di euro. Depurando da questo importo i 10 miliardi circa che i creditori hanno ceduto prosoluto alle banche, dice il segretario della CGA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, si evince che la nostra pubblica amministrazione deve saldare ancora 60 miliardi di euro ai fornitori. Nonostante gli annunci, le promesse e i 56 miliardi di euro messi a disposizione dai governi che si sono succeduti in questi ultimi anni per il biennio 2013-2014, lo stock di debiti rimane ancora molto elevato, poiché la nostra pubblica amministrazione continua a pagare con forte ritardo rispetto a quanto previsto dalla direttiva europea introdotta nel 2013. Quest'ultima impone di pagare entro 30-60 giorni. La nostra pubblica amministrazione si conferma la peggiore pagatrice d'Europa, visto che salda mediamente i propri fornitori dopo 144 giorni contro i 34 medi che si registrano in Unione Europea. Rispetto ai nostri principali partner economici, la Francia salda le proprie fatture dopo 62 giorni, i Paesi Bassi in 32 giorni, la Gran Bretagna in 24 e la Germania dopo 19 giorni. Siamo arrivati alla conclusione del nostro telegiornale. Non prima di aver dato un'occhiata al tempo previsto per la giornata di domani, avremo un tempo in prevalenza soleggiato ma con addensamenti ancora cumiliformi sparsi e la possibilità di qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o d'occasionale temporale. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS